there's not much to do when all I can is thinking about you not doing well adesso siamo in un po' al parco poi dopo andiamo a fare un po' di shopping e andiamo a fare colazione sono fame si face una fontana adesso non c'è più passaci mamma prova ma non credo l'hanno proprio tolta perché poi era così bella quella fontanella infatti per fortuna cioè dove abitiamo noi non c'era pure era cattivo tempo noi ci siamo venuti qua e sei sì bello ma guarda ma infatti posso togliere la registrazione ma non c'è può vedere ci scommetto 3 euro ma dove mamma io tengo gli occhiati però non li vedo ma ora andiamo a prendere ah sì ok me lo faccio mi stai ne compiuta abbiamo trovato il carrello dopo ho già smettito di andare perché nei posti ci vengono non ci voglio stare quindi un po' di shop finissimi danni andiamo qui al mare a fare colazione un po' di shop finissimi danni non ci voglio andare sulla spiaggia ci fanno i castelli un po' di shop finissimi danni mi ha scelto il mio stesso colore la prima cosa che noi mi fa vedere cosa bene abbiamo preso alza un po e alza abbiamo preso questo battista che è nuova e una nuova profumazione era pagato 6,90 questo questo non conosce i prezzi delle cose poi vai prendi il resto per la signorina tira un po più su abbiamo preso questo della dei pinzero sono le strisce depilatorie alla camomilla per il viso vuole fare le sopracciglia faremo poi questo non lo so quanto costa prendi lo scontrino così allora dei pinzero 4,90 sono andato lo sconto ok poi abbiamo preso opps chiudi fate vedere queste di jasmine che jasmine sui make up se nessuno e mi ma vedi questo è il lipstick avvicina gli stitch ok da glielo ok grazie questa era un'offerta e l'abbiamo pagato meno 75 1 euro e 90 poi questo per jasmine vero tanto anche per noemi che fa sport e quindi dopo che se non c'è possibilità di cambiarsi subito da versi subito il bolo d'alco asciuga una bellezza e poi vieni a casa e ti fa la teccia dopo lo 2 euro 2 euro stava lo sconto però 2 euro comunque poi ora viene il pezzo forte i make up allora abbiamo preso questa avvicina guarda nella nella videocamera ok avvicina un po questa che è la tinta la labbra dell'asta o etica questa è la tinta questa dita labbra astra far vedere il colore freddo il tappo abbassare così leggo avvicina avvicina ma sei a si brazo e questo è il colore che è il 0 a questo non te l'ho detto questa è una tinta labbra ma anche si può usare come blush e che lips se la sfumate veloce poi la proviamo insieme noi mi già l'ha messa sulle labbra per vedere bellissima bella 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 poi questa abbiamo pagata aspettate astra col rich love le 7 e 50 avevo risposto 40 41 euro e 70 non è vai poi non è mai come pagare più poco stanno 30 euro alza un po avvicina poi ho preso questo fondatinta per l'estate io ho ancora un altro po del mac studio finish da finire però essendo che l'estate dura poco devo prendere dei fondatinta scuri avvicina ho detto mi prendo questo qua che è come si chiama consiglia e fondotinta insieme come si chiama a sta trasformista e dicono che è molto coprente lo proveremo insieme prego amore questo l'abbiamo pagato a rostanti a cannes 10 euro e 90 quindi va bene visto che comunque l'estate dire quello che dura e è nulla ragà questo era il nostro bottino da idea bellezza facciamo vedere quando abbiamo spesso 41 euro e 70 di cose per la bellezza ed eccoci qua ragazzi siamo tornati a casa abbiamo veramente fatto un tour de force siamo stata tutta la giornata fuori adesso casa e adesso relax anche perché ci dobbiamo preparare per l'inizio della nuova settimana devo anche dare una mano a studiare noemi adesso cosiniamo a volo un po di cose di mare visto che siamo stati nella zona abbiamo anche comprato qualcosina quindi facciamo un primo e un secondo di mare e io ho usato anche per l'appunto la tinta che ho messo su ma ho mangiato ragazzi ho mangiato il gelato bevuto caffè bollente caffè latte ho mangiato di tutto ho messo quindi la tinta nuova e il fondotinta nuovo questo dell'astra che fondotinta e correttore 2 in 1 ed è maxi coprente questo effetto questo finish matte e super coprente mi piace tantissimo infatti ho infatti ho abbandonato quel fondotinta nuovo della maybelline il cancellata come c'è il correttore avevano fatto il fondotinta però ad effetto glow e mi è piaciuto all'inizio però poi dopo dopo un po' specie nella zona T andavo ad encipriarlo e quindi poi si perdeva l'effetto glow che senso c'ha comprare un fondotinta glow se poi lo vado a mattificare quindi devo fare il doppio del lavoro e visto che la cipria la uso raramente in inverno mai la uso solo in estate e per questo perché anche perché trovo che la cipria per chi ha una per chi ha comunque una pelle non più da un teenager la cipria va ad evidenziare le rughette quindi io cerco sempre di non applicarne tanta anche perché uso dei prodotti che si fissano per bene quindi anche il correttore lo vado a fissare poco poco giusto perché cancella età della maybelline dove lo metti la si fissa raga veramente il top per me è il top non lo pambio con nessuno quindi detto questo per quanto riguarda il make up adesso ci mettiamo ai fornelli prepariamo tutto e dopo ci prepariamo per l'inizio della nuova settimana quindi andiamo a piegare tutte le divise della scuola finiamo di fare qualche compito che avevamo lasciato in sospeso e ci prepariamo e io anche così vado a fare anche la spesa settimanale quando le bimbe sono ragazze della felicissima perché ho fatto un ordine importante da Ikea ho fatto un ordine che non vi dico non vi voglio spoilerare nulla però finalmente ho preso una cosa che immobile ecco diciamo così immobile che dovevo prendere da un bel po' di tempo e stamattina sono riuscita a veramente apprendere anche perché è un qualcosa che verrà messo momentaneamente in una stanza però è pensato al futuro perché poi tra qualche mese spero verrà messo poi in un'altra stanza quindi insieme appena mi arriva lo montiamo e vi faccio vi faccio capire meglio che cos'è e soprattutto in quale stanza sarà poi predisposto per andare e nulla ragazzi mi sono struccata però ragazzi praticamente stamattina lì al mare ho preso tanto sole mi sono abbrunzata tantissimo era proprio una giornata da portare costume perché a un certo punto mi sono tolta poncio mi sono tolta tutto e sono stata con un maione scollato e infatti ho preso tantissimo sole quindi finalmente ci voleva proprio conto di renderci molto presto però questa volta ci vado munita di costume da bagno quindi speriamo bene che queste giornate continuano ad essere così soleggiate così miti non dico calde però da poter stare a prendere il sole senza soffrire troppo il caldo quindi questo è proprio il periodo che mi piace tantissimo andare al mare perché c'è poca gente c'è quel vento che ti fa prendere il sole non te ne fa praticamente accorgere quindi il periodo che amo di più e chi vive in una città di mare sa benissimo che questo periodo è il periodo di fino agosto inizio settembre sono quelli più belli da andare a mare e finalmente amazon si è decisa di dirmi dove è il mio colore per capelli sta arrivando ragazze sta arrivando non vedo l'ora una ricrescita pazzesca e lo faremo insieme cosa hai comprato lei dei persiana ma che cosa è l'amorbidente se lo vede mio marito che manico di amorbidente raga ma non è bene è troppo bello tesorio d'oriente questo non gliela fa vedere a nico questo qua praticamente allora tesorio d'oriente persian dream morbidente aromatico o una una tua follower una nostra una nostra follower ha detto che è felice di vederti sono ancora viva solo che si è presa un attimo di riflessione un attimo di pausa no ma poi all'improvviso ritorna raga ritornerà poi vi dirà lei tutto vabbè comunque questo è il video questo è tutto siamo presi una bella giornata rilassante non voglio perdere questa bronzatura e nel prossimo video faremo insieme colore di capelli vogliamo dare un bacio a tutte le mie tesorine a tutte le nuove iscritte a tutti voi e noi ci vediamo al prossimo vlog di famiglia ciao ragazze lasciate like non vi dimenticate è importante questo non è un albo per me importantissimo grazie